Ibrida è uno dei pochi festival in Italia che si occupa in modo estremamente affascinante, estremamente significativo delle arti multimediali. Ibrida è uno dei festival, dei bastioni della cultura, non so neanche perché sono i Thundergrounds. Sono ormai delle oasi e per fortuna ogni tanto ci suono e speriamo che continuino a esistere. Grazie a tutti.